Le abbiamo lasciate con le mani in pasta, intente a preparare diversi chili di orecchiette e cavatelli in occasione di un evento pubblico nei Rioni Sassi. A distanza di poche settimane, le signore dell'Associazione della Martella, ieri, oggi e domani, così come nello spirito che ha animato la costituzione del gruppo guidato da Arminia D'Adamo, si cimentano in una prova non affatto familiare, l'utilizzo del tablet. Oggi vedrete le signore che non più con le mani nella pasta, nella farina, ma bensì su un tablet. Dalla manualità alla tecnologia, indubbiamente, quindi è una grandissima soddisfazione. Questo è un progetto finanziato dalla Fondazione Vodafone e dalla Fondazione Senior Italia con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione ed è rivolto a tutte le associazioni no profit con l'obiettivo di colmare il digital divide. Quindi si cerca di avvicinare anche le generazioni che non hanno avuto possibilità di accesso facilmente alla rete internet e di poter conoscere questo fantastico mondo. Scrivere una mail e navigare su internet, ma anche accedere a prestazioni sanitarie, verificare liste d'attesa, referti o effettuare il pagamento ticket. Un'iniziativa che certamente aumenterà autosufficienza e autonomia. Dei medici, dei fisioterapeuti... Grazie.